Ciao ragazzi, ciao da Nikkei, bentornati qua su Youtubers Life Non c'è niente di meglio che cominciare ragazzi questo gameplay con una bella dormita Che ne dici, Nikkei virtuale, eh? Un riposino, eh? Riposati, riposati, che c'è tanto lavoro da fare, Nikkei Allora dai, vediamo un po', mi avete detto che ci stanno cose nuove da mangiare, vero? Non avevo fatto caso, raga, che ci sono anche altre cose che uno può mangiare Tipo pizza, spaghetti, hamburger, insalata, vabbè gli otto dog già li conosciamo Beh, comunque mangiamo ragazzi Mangiamo già quello che noi possiamo, raga Siamo quasi a 100.000 iscritti ragazzi, niente proprio di meno, incredibile ma vero Nikkei riesce a ritornare a 100.000, riesce ad arrivare, anzi meglio dire, per un'altra volta a 100.000 iscritti Dunque, monitor nuovo, che facciamo? Un video? Non fare niente non conviene Oh, ma sto gioco già è passato di moda Oh, ancora ci ho fatto solo un video, dai, almeno un altro, dai, l'ho comprato Poverino, non ha voglia Oh, ma quanto cacchio si lamenta, ma non ho poco Ma non ho poco, si lamenta almeno per 30 secondi Quando lui gli dice, Nikkei devi andare a fare video, no Che sta dicendo? No, video no Ah, ma va a essere ogni volta che faccio video si rompe stu cacchio computer Ma ogni volta che faccio video si rompe Oh, nay, I expectly, I know, say, da new console Sta velocità alla Playstation 3 Game screen Ah, 10 punti Vai Oh, nel mentre che non mi sta dando un copyright Ne approfittiamo, no? Avrei bisogno, eccolo, vedi, l'ho chiamato Suono Ti prego, non muta No, 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 no E no, non ci clicco Copyright, non ne voglio Avanti qua, io aspetto Non ci penso per niente Che poi gli devo dare 50 dollari Ma col cavolo Come minimo, 50 dollari No, 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 no Eh, va bene Vai Vabbè, 50% di interesse, raga, non è male 50% Oh, ma stu cacchi computer si rompe sempre Non lo posso riparare manualmente Devo sempre pagare qualcuno che me lo venga a riparà Che me lo venga a riparà Ciao, tizio Senti, io voglio chiamare un'altra ditta Guardalo Ride pure Ride Ride perché sa che non lo ha giusta Sa che Ma poi cosa c'entra il giri Cosa c'entra il giravite? Cos'è? C'è una manopola lì da girare? Cos'è sta roba? Uh, possiamo guardare fin dentro Guarda Che bello Ok Ehm Beh, che famo? Una dormita Perché tanto Tanto già con mezza barra Non ci fai niente Comunque va solo un pollicione in su A proposito ragazzi di pollicioni Mi raccomando Lasciate tanti bei mi piace Non ve li dimenticate Eh, se il video vi piace Se alla serie vi piace Lasciate tanti bei mi piace Ok, allora Oh, ma io me ne voglio andare di qua Ragazzi Mi sa che ci siamo rimasti già troppo tempo in sta casa Ce ne andiamo Tanto Beh, dovremmo farcela Dai, a fare i soldi a sufficienza a pagare l'affitto Dai Me ne voglio andare Dai, mi voglio muovere Richiede zero Ci mancherebbe che devo pure pagare per andarmene Comunque 320 dollari al mese ragazzi di affitto Andiamo Ah, prima di andarmene Devo Devo decidere cosa dire alla mia compagna a distanza Ma quale compagna? Quella non c'è mai a casa Mai, mai c'è Quale, quella compagna a distanza Dove la vedi mai a quella? Quella va Viene due secondi E se ne va un'altra volta Vabbè, comunque Vediamo un po' Dov'è? Sta venendo Eccola qua Me ne vado Me ne vado Mi son scucciato Ok Hai Ho sentito che te ne vuoi andare in un appartamento più grande Oh, sto leggendo Quattesemente Finito? E se ne va pure Ancora non abbiamo finito l'altro discorso Comunque ho sentito che ha bisogno di più spazio e così via Dice lei Sei sicuro che non mi vuoi Come compagna? Eh, se vuoi venire a voi Vai Grazie per l'offerta Ma A me piace stare qua Non ti preoccupare Verrò a visitarti Come prima mi chiede Se può venire Gli dico sì Almeno è quello che ho capito E lei No, no, aspetta A me Io preferisco stare qua Vabbè Ma valla a capire Prima mi dice Ma io voglio venire Poi no, no Ma io rimango qua Oh, il nuovo appartamento di nicchie Bello e grande Da qui posso iniziare a creare il mio team di YouTube Un team Posso assumere qualcuno per fare video insieme Ho capito Va bene Il mio collaboratore ha l'abilità di fare video per il canale In base alle mie istruzioni Ovviamente bisogna pagarlo Ok Insomma praticamente l'obiettivo attuale è quello di assumere un collaboratore Dovrei assumere un collaboratore come obiettivo primario Ma comunque ragazzi questa è la nostra nuova casa Non tanto grande Ma comunque ci accontentiamo Allora devo comprare secondo me un gioco nuovo Perché Sì ma qua sta per arrivare Cioè io spero che non sta per arrivare il momento di dover pagare l'affitto Ma è piuttosto probabile Meno male che l'altra volta ragazzi Non me ne sono andato il 30 di maggio Era Figuro di pagare l'affitto Era appena arrivato Allora un gioco Come faccio a sapere se è il gioco Ah qui è scritto la data di uscita Ecco Oggi che cos'è 20 giugno Allora oggi è il 20 di giugno Maggio 15 giugno È abbastanza nuovo Giugno 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 L'unico gioco più buono è questo Uscito da 5 giorni Vai Se saleva sto coso davanti posso chiudere Ecco Ok Una bella riposata e una mangiata Vai Mangiamo Sta per arrivare se tutto va bene Eccolo Meno male niente più bug Dai I lamenti non li potevi lasciare Nell'appartamento vecchio Ne ha bevuto l'acqua dai Ah per l'acqua fa Una dormita Per dormire non ti lamenti Oh comunque raga Lo so mi dite nicchie Ma sti rumori del gioco Sono fortissimi Ma raga io quanto caspita Li devo abbassare Più basso di così Non lo so E che sto tizio Quanto parla E forse adesso va un po' meglio Ok Allora nuovo video Adesso spero che non è troppo basso Il volume del gioco Però mi dite sempre che Fa venire un mal di testa Non lo so Posso fare speed run No Collaborazioni Allora prima impressione Perché il gioco Il gioco comunque è uscito da poco Chi fa che deve fare video Poveraccio Ma fa un video Dai non te la manda Chi è sta storia Certo che sto nicchie virtuali Si sa solo lamentare Avanti Però quando gioca Con joystick Con lo joystick Io con sto Sto Stole Non ne voglio Clicca destro Che succede Clicca destro Non succede niente Uffa Vabbè dai Ma che devo fare raga Devo aspettare dieci secondi Una gran scocciatura Dieci secondi I primi Eh 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 E ora Ok Ci mettiamo questo Ok Mi serverebbe più performance Ok Outro With logo Il cavolo Perché non mi basta Nei punti Ah ci posso mettere Qualcos'altro Bu Ah vabbè Un po' di questo Process Interesse Interesse 86% Pubblica il video Nicchie Mi raccomando E andiamo subito A lavorare Perché tra poco Si deve pagare L'affitto Caspita 100 dollari Di guadagno Avete visto Che bel lavoro Forza 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 Non lo voglio perdere Sto lavoretto Bello Bello Ecco Vai 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 Basta Dormire Basta A gioia Vai a lavorare Forza Vai 1 2 3 1 2 3 A lavorare 1 2 3 1 2 3 Vai Forza Avanti Non tornare senza soldi E che Che qua l'affitto Si deve pagare E quanto cacchio ci vuole Eccolo che torna Felice e contento Da lavoro Vai a fare altro pisolino E poi Torniamo al lavoro Perché raga 320 dollari Mi raccomando Potete morire De fame Ma l'affitto Va sempre pagato Se non pagate L'affitto Game Over Quindi Ci do Ad altri 100 dollari Dai E con l'affitto Ci siamo Ancora 100 dollari E con l'affitto E' pagabile Più i soldi Più i soldi Guadagnati qua Da sto video Guarda quanti soldi Niente male Però dai Oh Mo ci capiamo Una dormita Una magnata Una pisciata Ma quella mai D'altronde Il bagno Ah il bagno C'è qua Dai Nel bagno L'hanno sperimentato Almeno qui Peccato che non lo usiamo mai Oh mazza quanti soldi Che fa sto video Vai 100 200 dollari Buono 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 Hot dogs Oh 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 eh Launcher New console Playstation studio Playstation 3 Insomma O uscita la Playstation 3 Oh ma noi Finora è vero Non abbiamo comprato Manco una console Ma perché Comunque A soldi Raga Quasi quasi Mi va a simulare Abbastanza bene La vita reale Perché A soldi Non si sta Spesso messi bene Comunque direi che andiamo subito a fare un altro video E questa volta un bel gameplay Su questo nuovo gioco che abbiamo comprato E non ti lamentare forza Non ti voglio sentire dire Non devi fiatare Non devi fiatare Avanti One Two Three Three Wow Mi piace troppo Ci metto quelli costosi Ok Eh no Peccato Accidenti Che checchio Non ci è risolto niente Cavolo E mo Mi è finito Amoni vai Let's go Oh che buono Pubblica video Invitation Un invito Per la playstation 3 Andiamo Ci vado Quanto è questo evento? Il 30 Beh Ce la facciamo Ok 267 dollari guadagnati Hoppla Hai sbloccato Un nuovo tipo di video Trova Trova Devo trovare Devo trovare Quei youtuber Più famosi E cercare di Fare Un'intervista A questi I tuoi fans Saranno felici Se io faccio Le interviste Agli altri youtuber Ammazza Non me l'avete mai detto Sta cosa Siete felici Se faccio interviste Ad altri youtuber Che bello Ok allora Ma scusa Sta cosa Sta cosa Da dove che si fa Osvaldo Faccio una scattata Con osvaldo Osvaldo Non posso far niente Perché computer Occupato Però guardate Come carica il video Vai Pronto Replace Costa un botto De soldi Osvaldo Come va Mi faccio una scattata Con osvaldo Osvaldo Cosa stai Osvaldando Beuh Mazza Come ci attaniche Guarda È diventato Tutto grigio Tadà Certo che i muri Oh wow Poi cambiare Ho cambiato Il filtro Della telecamera Per vedere Tutto grigio Va Però la scritta È rimasta In blu Vabbè Comunque Mi sono scocciato Di ci attacco Osvaldo È già Non rottura Di scatole Allora Cosa abbiamo qua Livello 14 A proposito Ma Ah I vestiti Vero Ma Finalmente Posso comprare Qualche No Ancora No Ancora No Ma quando è Che si sblocca Oh Si è rotto Il computer Ah Stavolta Lo posso riparare Gratis Ma sta cosa Non l'ho mica Capita No Ma io sta cosa Raga Non l'ho capita C'è Ci sono momenti Che lo posso riparare Da solo E momenti Che devo chiamare Il tizio Ma perché Forse passa troppo tempo E si rompe Di più Non lo so Ma comunque Che facciamo Facciamo un altro video No Facciamo un altro video Perché tanto Perché tanto Uno youtuber Diventa famoso Se fa video Se non fa video Che cacchio vuoi che fa Quindi star fermi Ad aspettare Che arriva il momento Di andare A quella Cosa Va Anche se Anche se A dia verità Ci siamo quasi Mancano Tre ore Due ore Per mangiare Ok Non è adesso Che ci dobbiamo andare Lì Oh Mi raccomando State attenti Perché se cliccate Replace Computer Siete fregati Perché Perché poi Non c'ho I soldi Per pagare L'affitto Oh E basta Lamentate Va Che tra poco Dobbiamo anche andare Alla presentazione Di sto gioco Qua Quello che Avanti Tu era fuori Tira fuori Il gamepad Non tira fuori Altre cose Ok 12 Boom No io non ce la metto Quella carta Uh Questa si Che ce la metto Ok E vabbè Va No no Niente stolen Eh Almeno comunque Ce lo Ce lo metto Vabbè vai Process Beh Non è male Oh ha pagato l'affitto Ok L'affitto è pagato Benissimo Così il video Mo Si carica E noi ce ne possiamo andare A questo evento Ok Quindi almeno Al ritorno Abbiamo un video Bello Che è pronto Diciamo No E abbiamo anche guadagnato Quasi 200 dollari Raga Allora Oh Come questa Come questa Che lingua parla Pausa Voglio sentire la lingua Cioè Vediamo che dice Allora 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 ok abbiamo finito ma quanti iscritti ciò raga all'improvviso da 96.000 sono passato a 129.000 così non ci ho fatto manco caso ok abbassiamo il volume mo di nuovo che ha dovuto fare dice l'intervista a qualcuno vediamo un po profilo bello facciamo intervista a questa fatta clicca la posso fare l'intervista è un'intervista chi cacchio riconosce mamma bene cosa sono meno 10 perché non mica capito oddio problemi di audio nicche problemi di audio vediamo se riusciamo a sistema all'audio non è male c'è uno qui che accanto sento che fa cose strane cosa simile c'è quel tizio che parla strano non nasce ma che cacchi chi è che gli dà le voci a questi questo dai e l'altro oltre oltre di quello buono yeah ma che bello ce l'ho fatta mi ha avanzato un punto ma ce l'ho fatta thank you jada thank you posso farti una parla o impariamo a conoscere già un'altra volta kuno non nasce bla 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 coordinate... di nuovo blablabla comodata stessa conseggi è quello quello di fare magari ci vediamo in giro vabbè qua ci manca qualcuno si è fregato di così dal tavolo vabbè arrivederci signorina la ringrazio per l'intervista gente confessa e dicono cose strane amante forza nick e 129 mila iscritti dai mi ha superato wow you can live non i che thank you for coming non me lo dice più vattene non sei famosa adesso mi dice grazie per essere venuti tre buon d'aurore tramite che c'è nic che comunque ragazzi il mio personaggio virtuale mi ha superato io sono quasi 127 mila iscritti e lui di fatto è contento perché mi ha superato di nero di nero di nero fanni critica fanni critica o andiamo a fasto video dai l'intervista da tizia avanti lamenta meno 7 no ci mettiamo un bel zero quale meno meno 7 interviu ha avuto lamentare più e faccia vaglia e che sto sto arrivato avanti dai finiamo sto coso qua avanti guarda nic che quanto è bravo a fa sti cosi ormai diventa gli aspetto ok che che problema audio c'è non è che non c'è ci mettiamo a questo ci mettiamo un po di questo un po di questo è un altro po di audio vai process wow più 50 perché sennò era 10 per cento pensa un po pubblica il video a un'altra carta sbloccata e mentre che aspettiamo andiamo a fa altre due lire va dai così stiamo un pochettino ragazzi a fa soldi a qualche lira ce l'abbiamo e all'affitto l'abbiamo pagato da pochissimo tempo è quindi adesso tutto quello che guadagniamo è guadagnato dovrei ancora assumere qualcuno ma con calma comunque pollicioni negativi parecchi a dice che non ha editato bene non gli piace il video il video non è buono è il telefono di nic che questo è scusa ok l'intervista comunque dai farà qualche lira no una bella dormita e ragazzi il tempo è stravolato via direi proprio che ci fermiamo qui io spero ragazzi che questo che plevi sia piaciuto se avete dei consigli qualcosa da fare nel prossimo gameplay di te lo ragazzi di te lo così che io diciamo che nel prossimo gameplay se tutto va bene cerco di assumere questo secondo youtuber che vediamo un po a che serve per il resto ragazzi spero che il video vi è piaciuto mi raccomando commentate iscrivetevi lasciato un pollicione in su ci si becca presto in un prossimo gameplay ciao ragazzi ciao